Ciao a tutti e bentornati in Testina News, quest'oggi parleremo di un set davvero molto utile per realizzare una borsa che può essere praticamente indossata tutto l'anno perché vi consentirà di realizzare delle borse da poter abbinare a qualsiasi outfit, poi i filati per borse presenti sul nostro catalogo sono davvero tantissimi, c'è da divertirsi Parliamo di un set che è fondamentalmente un classico, vale a dire il set giroborsa Ecco che cosa vi arriverà proprio nel momento in cui acquisterete il set giroborsa Vi arriverà il fondo, la patta alta, eccola qui, con le relative viti e i manici Ma analizziamo nel dettaglio ogni singola componente e cominciamo proprio dalla patta alta Allora, la circonferenza totale è di 84 cm, l'altezza del giroborsa invece è di 6 cm Analizziamo bene anche quello che è il diametro dei relativi fori Questi hanno un diametro di circa 1 cm, mentre questi hanno un diametro di circa 0,4 cm, quindi 4 mm Come potete vedere qui ovviamente sulla parte finale dei due estremi ci sono degli appositi fori che potete tranquillamente fermare o con il filo se preferite oppure proprio con le viti che vi verranno date in dotazione C'è l'effetto in ecopelle sia da un lato che dall'altro, quindi sia dall'interno che dall'esterno Quindi sicuramente insomma anche la parte visiva avrà insomma la sua importanza Questo invece è il fondo, il fondo misura ovviamente 36 x 12 cm a una forma ovale, in modo tale che possiate poi tranquillamente sviluppare la vostra creazione, la vostra borsa e poterla tranquillamente inserire nei fori posti proprio alla base della patta alta Il foro anche qui è di 0,4 cm circa, quindi insomma ecco lo stesso filato potrete tranquillamente utilizzarlo per l'intera creazione E infine abbiamo i due manici che ovviamente verranno applicati nei fori con i dettagli in argento che ovviamente richiamano gli stessi dettagli in argento presenti sui manici Che appunto insomma ecco vi serviranno proprio per completare la borsa La lunghezza totale dei manici è di 48 cm circa e l'ampiezza del moschettone invece è di circa 1 cm C'è ovviamente un bel rinforzo interno quindi parliamo di manici davvero molto molto resistenti Il set giro borsa è disponibile in 5 varianti di colore, la prima che abbiamo visionato finora è questa la variante bordeaux Questa invece è la variante panna, ecco qui vi facciamo proprio vedere già il set già chiuso con le apposite viti Questa invece è la variante nera Questa invece è sempre una tonalità molto scura ed è la variante nevi E concludiamo infine con l'ultima variante di colore che è la vostra preferita, vale a dire la variante cuoio Disponibile in 5 varianti di colore, le più classiche e quelle anche più richieste Che quindi possono essere arricchite da filati sfumati, filati lurex, perline e ciondoli Con dei dettagli che lo rendono un set davvero di ottima qualità E ribadiamo sempre il concetto made in Italy che è sempre garanzia di qualità E' una garanzia che per Tessiland è fondamentale Io vi ringrazio come sempre per averci seguito Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella Così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli Noi ci vediamo al prossimo prodotto Ciao!